2021 che per l'artigianato è cominciato portandosi gli strascichi di un 2020, la crisi del settore e la crisi dei sussidi adeguati ad attenuare questo stato di sofferenza? Assolutamente sì, dopo più di un anno ancora purtroppo stiamo parlando di emergenza. Per molti artigiani è stato un anno non orribile a livello economico, ma un anno completamente cancellato. Purtroppo i sostegni non sono stati né tempestivi né sufficienti e allo stesso tempo le ripetute chiusure in questo anno hanno permesso purtroppo ai nostri impeditori di non lavorare come avrebbero dovuto, ma di avere perdite importanti. Questo è il sentimento che alleggia adesso in questo momento gli artigiani, ma soprattutto quello che pesa di più è questa sensazione di incertezza. Non si vede ancora la luce in fondo al tunnel, non c'è certezza di quando si potrà continuare a lavorare, perché io lo ricordo per l'ennesima volta, i nostri imprenditori non vogliono l'elemosina, ma vogliono essere messi in grado di fare il loro lavoro. Da uno studio fatto dalla CNA nazionale che ha preso 12.000 contabilità che noi teniamo presso i nostri uffici, tra cui qualche centinaio anche della provincia di Pesero Urbino, si evince che migliaia e migliaia di imprese hanno avuto un calo del fatturato intorno al 28%. Quindi fissare l'asticella al 30% per quello che riguarda il decreto sostegni vuol dire che migliaia e migliaia di imprenditori non potranno avere nulla e vi ricordo che in un'annata normale avere il 28% di perdita probabilmente vuol dire la chiusura. Immaginate voi qual è lo stato d'animo dei nostri imprenditori.